Mi trovo davanti alla chiesa di Santa Margherita dei Cerchi in Firenze, nel quartiere d'Antesco. Qui sembra ci sia il luogo di sepoltura di Beatrice, quindi una chiesa soggetta a tanti pellegrinaggi da parte di innamorati. Nell'interno abbiamo una navata terminante con una scarsella, cioè un'abside quadrancolare. Sopra l'altare troviamo una Madonna in trono con Santa Lucia, Margherita, Agnese e Caterina d'Alessandra di Neri di Bici. Sull'altare di destra invece si trova una predella importantissima di Domenico di Michelino, costoria di Santa Margherita d'Antioca. Sotto l'altare di sinistra invece troviamo la sepoltura di Beatrice, anche se è probabile che sia sepolta insieme al marito Simone De Bardi in Santa Croce. Qui gli innamorati lasciano biglietti d'amore e lucchetti incatenati, come abbiamo trovato in facciata entrambi.